Ciao ragazzi e ben ritrovati, io sono Tenore Informatico e oggi vi farò vedere un modo per emulare Android direttamente sul vostro PC. Avete capito bene, per fare questo basta andare nel motore di ricerca più famoso al mondo, che è ovviamente Google, e digitare sulla tastiera il nome del sito BlueStacks, che si occupa appunto nell'emulazione di Android su piattaforma Windows 10. Scarichiamo l'ultima versione del software, avviamo poi il file EXER, confermiamo e installa ora. Aspettiamo qualche minuto affinché l'installazione si completi nel nostro computer. Una volta completata l'installazione, clicchiamo su Completo, e così si avvia finalmente l'emulatore BlueStacks di Android. Anche qui dobbiamo aspettare l'avvio del motore, che riguarda i BlueStacks, e il tempo varia a seconda della potenza del vostro PC. Se non l'avete fatto, vi consiglio di attivare subito la virtualizzazione da BIOS Wi-Fi. Ho già messo qui nel link in descrizione su come fare per l'attivazione della virtualizzazione nel vostro PC. Una volta fatto, configuriamo il BlueStacks su PC, cliccando su Inizia. Ci vengono chieste delle informazioni e sappiamo ovviamente che si tratta dell'indirizzo email dell'account Google personale. Inserisco adesso l'indirizzo email del mio account. Ovviamente questo è l'email che potete utilizzare per contattarmi, ma anche su Facebook trovate Tenori Informatico. Andiamo avanti. Dobbiamo inserire la nostra password. Clicchiamo avanti. Confermo l'identità dal mio dispositivo Android. E accettiamo le condizioni. Siamo quasi pronti per utilizzare le potenzialità di questo fantastico emulatore Android. Clicchiamo su Comincia a usare BlueStacks. E finalmente, eccolo qua. Una volta che avete attivato la virtualizzazione, potrete usare al meglio questo software di emulazione. Abbiamo il Google Play Store in modo da poter videogiocare, perché dovete sapere che il BlueStacks è anche stato pensato per videogiocare direttamente in ambiente Windows con le applicazioni Android. Sono all'interno del Play Store, vedete? Abbiamo come se diciamo che il telefono fosse direttamente su Windows 10. Una cosa veramente interessante. Ci sono i giochi. Possiamo scaricare un qualsiasi gioco. Installiamo uno qualsiasi. Possiamo anche mettere in piccolo oppure a tutto schermo l'emulatore BlueStacks. Tornando direttamente alla home, ecco qua che il gioco è stato appena installato. Lo vado ad avviare. Apri. Ecco come si presenta. Accettiamo le condizioni del gioco. Un'altra cosa che dovete sapere è che l'emulatore BlueStacks su Windows 10 è 6 volte più veloce di un qualsiasi telefono e smartphone. Addirittura più veloce dell'S9 Samsung. E direi che questo software di emulazione si comporta molto bene. Abbiamo visto adesso i videogiochi, come si comportano, quindi le applicazioni, come funzionano alla perfezione in ambiente Windows per quanto riguarda l'emulazione di Android su Windows 10. E per farvi vedere un po' tutte le funzioni che sono poche, abbiamo un menu in alto con dei punteggi che si possono raccogliere e accumulare giocando. Questi sono i punteggi, quindi possiamo ottenere punti BlueStacks, ci viene consigliato a che livello dobbiamo essere per avere dei punti e con i punti possiamo acquistare delle determinate cose, dei premi. Abbiamo le notifiche degli avvisi, il nostro account in versione free, possiamo anche eseguire un abbonamento premium e andando avanti abbiamo le impostazioni. Possiamo decidere la risoluzione oppure impostare una risoluzione a nostra scelta, altre funzioni e così via. Che dire, l'emulatore funziona benissimo, secondo me è un'ottima alternativa se vogliamo giocare al meglio ai nostri giochi preferiti Android direttamente su PC. Quindi se il video vi è piaciuto voglio tanti like positivi al video e iscrivetevi poi al mio canale di tenore informatico. Attivate anche le notifiche per non perdere i miei contenuti video. Vi ricordo l'email e le informazioni, la pagina Facebook Tenore Informatico e soprattutto per supportare il mio canale c'è anche il link per le donazioni. Per ora è tutto, ci rivediamo sicuramente al prossimo video da Tenore Informatico. Un saluto a tutti, ciao! Ciao!